Dipingo per la piscina due grandi corpi all'interno della piscina, nei due lati. Poi dipingendo la piscina dipingo dieci opere, due metri e cinquanta per due metri, e dodici opere su PVC trasparente, molto pesante, che compongono una grande opera che è tuttora di proprietà della Galleria di Giulietta Gentili. A queste opere poi si aggiunge una grande opera, 8 metri, 5 metri, esposta a Palazzo Strozzi, esposta e dipinta nell'altane di Palazzo Strozzi, che è tuttora nell'archivio della mia collezione.